Per la verità non è che vi possa introdurre sullo studio del diritto elogonale, perché questo penso che lo farà l'Avvocatessa Armella che ne sa più di tutti quanti, immagino, e di me sicuramente. Invece volevo spiegare le ragioni perché mi sono trovato a fare la presentazione di questo volume che ho fatto con piacere ed è stata l'occasione per studiare, qui dicono che non ha letto nessuno e io ho dovuto leggere, perché se no sarebbe stato, no ma di quelli che sono parlati prima erano tutti verzi, diciamo io viceversa, mi sono dovuto adentrare un pochino e mi è servito anche, pur facendo a tempo pieno vita professionale molto intensa, come tutti sappiamo tutti quanti, il diritto elogonale io lo faccio solamente a Mantua, che non si sa bene perché, perché a Genova c'è l'Avvocatessa Armella che fa tutto lei, in altre zone ci sono altri studi, Mantua è rimasta isolata e allora mi sono trovata a fare dei contenzioni. Questa è una battuta per dire che è la verità, che il diritto elogonale è, io l'ho chiamata nella preparazione, un melting pot, cioè una specie di minestrone bollente dove c'è una marea di leggi, di robe di esperienza, tra l'altro adesso aggravata da leggi nostre, comunitarie, internazionali eccetera, dove c'è una profonda ignoranza, diciamolo pure chiaramente, dove la necessità di formarsi un inquadramento sistematico che orienti nella vita professionale e nello studio era da tempo, da anni per la verità, molto sentito, con un'assoluta carenza di elaborazioni di natura sistematica, dottrinale in materia, dove ci sono solamente dei libri ormai ancestrali che non servono più a niente perché sono cambiate le leggi e tutto il resto e al di là di nota sentenze di qualche saggio sporadico non c'era assolutamente niente. Quindi sotto questo profilo, io l'ho messo in evidenza nella presentazione che ho fatto al libro, c'era una forte esigenza di avere viceversa un contributo dottrinale organizzato sistematicamente in modo da fornire una base anche per l'esperienza concreta. Io in questo senso mi accredito un qualche merito perché ho rotto le scatole, scusate l'espressione molto genovese, avevo Cattese Arbella che conosco da tempo perché era Cattese Arbella, gli ho sempre riconosciuto uno spirito, prima di tutto estremamente combattivo, siamo stati anche su piani diversi, ma poi soprattutto una capacità di interpretare la norma e di non arrestarsi al caso concreto, ma un'esigenza di approfondimento, un salto di qualità sistematica, cioè farsi un'opinione lei e poi di saperla comunicare ad altre. Allora questo doveva trovare uno sbocco, diciamo così, concreto, non più solo nei saggi che io ho letto anche per ragioni, perché spesso nella rivista che dirigevo io mi vedevano iscritti dall'Avvocatessa Arbella sempre puntuali, ma l'idea di un'organizzazione sistematica. E quindi sono stato ben lieto di seguire questi sforzi e di leggere questo libro. Leggere, va studiato, parliamoci chiaro, non è che sia di facile lettura, nel senso di facile lettura perché l'argomento è quello che è, molto specialistico, molto tecnico e dove si annidano ignoranze profonde, almeno per quanto mi riguarda e quindi bisogna studiarlo. A me è servito, già professionalmente, con utilità, perché sono tutta una serie di passaggi, soprattutto quello della dichiarazione, ma soprattutto devo dire il capitolo 13 che poi è messo in sé, che questo poi ho scoperto adesso, di quanti l'avevo visto che era il migliore di tutti, non solo perché era anche più costano alle mie specializzazioni, ma perché era robusto e adesso poi ho saputo che la penna è integrale, nel senso che il capitolo 13, che raccomanda la vostra lettura, l'ha fatto a tutto di suo pugno, l'Avvocatessa Arbella. Molto robusto, diciamo forte e bisognoso però già di adeguamento, perché l'articolo 68 della Cica 46 del 92 che viene richiamato in un assetto interpretativo anche molto originale, molto acuto, alla luce o alle tenebre della norma comunitaria che è uscita, che è strampalata, che non si capisce bene cosa c'è per la testa. Questi qui, comunque, merita già, bisogna fare già un'edizione nuova, nel senso di aggiornamento, perché sono cambiati i dati normativi. Quindi questo è il senso, poi nella prefazione ho messo in luce anche gli altri aspetti, cioè che questa materia, la cosa assurda, è che investe interessi cospicui, interessa addirittura non solo l'assetto nazionale, ma soprattutto internazionale e quindi ancor più racconta l'esigenza di colmare una lacuna, cioè tanto che maggior interesse e non c'era niente di materiale su cui sperimentare questa esperienza. Il giudizio che io ho dato, come punto di vista personale, è di assoluta eccellenza e anche ho apprezzato la coraggiosità, adesso io non ho ancora fatto, non ho fatto come i tedeschi, perché l'ho scoperto ultimo la parte collaborativa, la parte attuale, quindi non sono ancora riuscito a vedere i percorsi, adesso mi riprometto di rivederli, perché in alcune tesi sono coraggiose, alcune pagine sono coraggiose, adesso non so se siano tutte sulle riviste sicuramente, ma come formazione originaria e quindi ci sono delle parti anche dei contributi di originalità. Ecco, io con questo vorrei dire che il suggello che io vorrei vedere di questa presentazione è il futuro, cioè il futuro prossimo, che è quello di continuare a fare edizioni e quindi di costruire questo manuale come una base fissa, diciamo così, per i cultori della materia. E poi ci dovrebbe essere, se mai le università avessero un'intelligenza, cosa di cui io profondamente dubito, perché avendo avuto tutta la fortuna accademica e possibili e immaginabili, e avendo tutte le cariche, tutte le onorificenze possibili e immaginabili, ma devo dire che mi ritengo un essere eccezionale, nel senso che non ho mai subito le incongruenze dell'università che viceversa sono totali. Se ci fosse un'intelligenza universitaria bisognerebbe fare una cattedra, un insegnamento su questa materia, la persona più adatta per investirla dovrebbe essere l'avvocatesa Armella, che io ritengo che poi dovrebbe anche assurgere a titolo anche accademico. E con questo io ho esaurito il mio compito e quindi mi accingo a sentire ulteriormente essere addottrinato dall'avvocatesa Armella. Faccio io gli applausi.